chi c'è dopo federer questa è una bella domanda direi difficile da insomma da poter rispondere perché insomma federer è un giocatore non so se sarà ripetibile nel suo genere in modo particolare ecco nel senso che probabilmente ci saranno arriveranno degli altri campioni non so se saranno sul livello di federer sia come risultati che come capacità di giocare a tennis però andiamo a vedere un attimino un attimino chi potrebbe chi potrebbe esserci chi potrebbe esserci dopo dopo di lui abbiamo dei giovani che sono estremamente interessanti abbiamo verev abbiamo zizipas abbiamo berrettini il nostro giocatore italiano questi sono i giovani giovanissimi abbiamo aliasim abbiamo un altro italiano che giovane estremamente interessante che è siner c'è sciapavolo ecco questi sono in linea di massima i giovani ce ne saranno degli altri che possono crescere ma sono ancora diciamo lontani ora non so io mi auguro naturalmente per loro che possano arrivare ad arrivare a livelli anche più alti di federer però insomma mi sembra difficile mi sembra che federer sia un giocatore che rimarrà ricordato per tanto tempo e con un record straordinario di tornei anche se questo record in realtà potrebbe essere battuto sia da da diokovic che da nadal parliamo degli slam però al di là di questo secondo me come come modo di giocare come tecnica come eleganza beh insomma credo che e anche come risultati naturalmente considerando che poi federer è anche una certa età quindi una longevità insomma fa paura beh io direi che insomma sarà difficile avere un altro campione straordinario come lui